Mister, a me l'Empoli è piaciuto, nel senso che ha fatto la partita, a questo Empoli probabilmente è mancato solo una cosa, la fortuna del gol, quando lo ha fatto è stato tolto per il VAR. Anch'io ho visto così, credo che abbiamo fatto un passo ulteriore rispetto a domenica scorsa, sai come mi ero espresso domenica scorsa, ero felicissimo della gara, non del risultato, stasera sono contento anche del risultato, perché venire qua e poi fare una buona prestazione come tu dici, creare situazioni dove potevamo avere miglior sorte e poi tornare a casa con qualcosa è sicuramente meglio che non domenica scorsa. L'episodio del VAR, io mi sono dichiarato sempre favorevole a qualsiasi innovazione che porti a regolarità e il VAR è uno strumento che porta a regolarità, se noi avessimo vinto la partita saremmo certamente più contenti, ma sarebbe stata una partita irregolare sul risultato, quindi ben vengano gli strumenti che aiutano a dare regolarità. C'è da sottolineare un aspetto, in tre partite l'Empoli per due volte non ha subito reti e se guardiamo a fondo sono cinque tempi su sei in cui l'Empoli non subisce reti. Questo è un rilievo interessante che avevo notato anch'io, mi fa piacere che tu lo metta in evidenza. La squadra è attenta, partecipa volentieri alle due fasi, chiaramente le piace di più la fase di possesso perché ci fa esprimere come vogliamo, ci dà soddisfazione, ma non disdegniamo di fare sacrificio quando la palla ce l'hanno gli altri. Anche stasera l'abbiamo tenuta un po' meno della travolta, ma pur un 63% di possesso e tanta roba a Chievo. E quindi, così facendo, aumentiamo un po' quello che ci piace di più fare, limitiamo un po' quello, ma siamo sempre disponibili al sacrificio. I ragazzi sono bravi. E' stato un secondo tempo un pochino più brioso rispetto al primo tempo, però negli occhi c'è sempre il primo tempo del Chievo contro la Fiorentina e nel primo tempo l'Empoli comunque ha concesso veramente poco a questo Chievo. Poi ti chiedo anche il fatto che la partita è iniziata in salita perché dopo pochi minuti di fatto Antonelli, che aveva iniziato molto bene questa partita, ha chiesto il cambio per i fortuni. E questo, vedi, esce fuori quello che a volte abbiamo detto, della necessità di avere cambi importanti, ruoli doppi. Entrato Pasquale ha giocato benissimo, ad alto livello, sia come qualità che come intensità. E quindi di questo siamo contenti. Ci dispiace un po' per Antonelli perché ora dovremmo vedere sia lui che Mimmo e queste sono veramente le cose che danno fastidio. Per il resto speriamo che cambia anche un pochino di sorte per il povero Zaic perché è ora due partite. Aver preso tre pali mi sembra un pochino tanto per quanto si dà da fare e per quanto meriterebbe. Di fatto mi hai bruciato la domanda perché volevo proprio chiederti questo. Sottolineo allora soltanto la Gumina perché è sfortunato anche questo ragazzo, anche oggi ha avuto una grandissima occasione e ha colpito in pieno. Io credo che lui e la squadra in quell'occasione non poteva fare di più perché credo di ricordare poi la rivedrò, ma credo di ricordare una gran bella azione sulla sinistra, mossa bene come vecchi tempi diciamo. Dà tutta la squadra, lui l'ha chiusa più che bene, però in quei casi lì ci vuole anche un pochino di buona sorte. Mi hanno detto che Sorrentino l'ha presa in faccia quella pallonata e quindi è andata così. Insomma sono gli episodi che questa volta ci è andata male, la prossima volta la prenderanno un orecchio che andrà dentro. L'ultima domanda te lo chiedo con il sorriso ovviamente, quindici giorni di tempo per preparare un tuo ex derby, quello contro la Lazio. Me l'hai voluto ricordare? Così? Grazie.